Al Book Pride con Federica Urso, il tuo editore indipendente preferito. Qual è il tuo libro preferito di questa casa editrice? Allora, Minimum Facts fa praticamente parte della mia adolescenza, del mio periodo universitario e ho fatto una tesi su Minimum Facts e scegliere un libro è veramente difficile perché è l'editore dei miei autori del cuore, da Richard Yates a David Foster Wallace. Se ne devo scegliere uno, forse Revolutionary Road o anche un antidoto contro la solitudine di David Foster Wallace. E un libro che ti manca da leggere? Allora, ho scelto La saggezza nel sangue di Flanerio Conor, lei è un'autrice potentissima della narrativa della letteratura americana del studio degli Stati Uniti, molto affine a Faulkner, di cui era una grandissima ammiratrice, una grande scrittrice da recuperare e quindi mi manca ancora questo.